Sotto a chi torta? Ecco qua la nostra torta di carote che abbiamo sfornato prima e l'abbiamo messa su questa bella alzatina, è ancora tiepida. E adesso, cari Sofia e Filippo, è il momento di assaggiarne una fettina. Allora, una per Sofia, guardate che bel colore arancione di carota che ha un profumo. Questa torta è proprio buona e fa anche bene. Io la sponsorizzo. E voilà, ragazzi, rosa e il gattino per Filippo. Buon appetito! No, non devo zampettare. Allora, è il momento del salvacena, finalmente mi metto le ballerine. Yeee! Allora, uno, due. Allora, facciamo un secondo di pesce buono, un pesce persico, con le verdure che devono rimanere belle croccanti, deve essere un piatto estivo. E visto che ho un sacco di tempo da buttare via, faccio anche degli spiedini con provolone e le verdure che mi avanzano. Però, insomma, la cosa principale è questo pesce persico. Buono? In? 8 minuti! Spettavolare! Tagliamo le verdure! 8 minuti al TG. 8 minuti al TG. Non ho capito chi parla. Forse mia sorella o mia mamma. La mamma. Ah, la riconoscete prima voi di me, va bene. Come sia, beh, è anche la festa della mamma. Allora, un po' d'olio, così, ne ho messo troppo, ma va bene, non importa. Io ormai non riesco a regolarmi con la nuova bottiglia dell'olio. Un pochino di cipolla, tagliata grossa, in questa maniera. Poi ci facciamo subito un po' di verdurine a tocchetti. Non facciamo le rondelle, che sono noiose, basta le rondelle. Noi vogliamo i tocchettini, così. Dai, alzati tu però. Facciamo rosolare tutti insieme. Facciamoli anche in lungo, che sono belle. Tanto abbiamo un sacco di tempo da perdere, no? Sette minuti al DG. Eh sì, è proprio la mamma. E lei ta sbrigati. È proprio la mamma quella. Via. Poi ci mettiamo il pomodoro, tagliato a metà. Deve tutto cuocere abbastanza poco, eh. Deve essere, sta bravo tu, così. Una verdura semicruda, praticamente. Il pesce no, quello deve cuocere però. Ok? Eh, voglia. Mettiamo ancora un po'. Così. No, mi fa ridere perché ho sentito l'alitizzetto che mi prendeva in giro nel programma della domenica, no? Diceva che se faccio un panino, faccio prima e c'è anche ragione. Però ho fatto molto ridere. La prossima volta faccio un panino. Allora, così. Basta, zucchine ce ne abbiamo abbastanza. Le buttiamo dentro. Buttiamo un po'. Mancano sei minuti al DG. Sale. Metto un minuto al coperchio perché vorrei farli appassire appena appena. Nel frattempo, gli spiedini. Com'è pesante sto peperone, mamma mia. No, in senso di digestivo. In senso proprio che aveva un peso. Allora, questi spiedini li facciamo con le verdure che avete nel frigo, quello che vi capita. Io ho queste. Poi ci mettiamo il provolone. Potete usare quello piccante o anche quello dolce. Facciamo dei tocchi, così. E poi li tagliamo a pezzettini. Direi che così dovrebbe andare bene. Che buono. A me piace un sacco. Con un bicchiere di vino bianco. Veramente la morte è sua, eh. Benedetta, 5 minuti al DG. Sbrigati. Devo mettere il pesce. Qui se non metto il pesce si mangiano solo verdure oggi. Ok, il pesce persico. Lo taglio a metà. Mica peraltro, solo per farlo cuocere prima. Quindi voi se avete un pochettino di tempo in più, volendo potete lasciarlo anche intero, eh. Questi sono piatti leggeri, giusti per l'estate. Perché poi qualcuno dice, ma Benedetta fai cose troppo grasse. No, questo è perfetto per la prova costume. E cosa ridete, vero? È il momento fatidico questo. Chi di voi ha già comprato un costume quest'anno? Nessuno. Nessuno si azzarda. Proprio è una cosa che... Mamma mia, paura. Un pochino di vino bianco. Et voilà, un po' di pepe. Quattro minuti a giudicola, fai? Sì, sì, sì. Grazie. Diciamo così, veloce. Chi è che dice veloce? Allora, spiedino, ta-dang. Ci mettiamo un pezzo di peperone. Poi ci mettiamo... Eh, un pezzo di provolone, che fa anche rima. No, troppo grosso. Questo qua più piccolino. Poi ci mettiamo... Si è rotto. Porco cane. Eh, perché... Eh, dai, dai, si rompe. Maggia. Poi ci mettiamo un fungo champignon. E poi ci mettiamo una cipollina borrettana. E poi la zucchina... Arca miseria. Facciamo l'effetto. Questa non entrerà mai. Vediamo. Dai. Mettiamo un po' d'olio. Benedetta, manca poco. Eh? Manca poco. Manca poco, Filippo. Non mi dire così, per favore. Devo mettere... Tre minuti al Tg. Guarda, sei peggio di mia mamma, Filippo. Vai bene. Il problema è che si rompono. Si rompono da morire. Allora, il fungo non ci sta. Il fungo lo metto da dietro. Così, dai, un altro, un altro. Bisogna farne un altro. Così. Ci ho messo tutto. Allora, questo è quello che si rompe sempre, malefico, il formaggio. Poi mettiamo per così, stavolta, la rondella, che è molto più facile. Al terzo spiedino ho capito che era più facile metterlo così. Poi mettiamo il fungo. Così. E poi io ci metto ancora un po' di formaggio. Chissà come sta il mio pesce. Adesso vado a vedere. Ah, questo si è rotto malamente. Eh, due minuti, due minuti. Vediamo, questi li giro. Perché l'importante, ecco, che si cuociano un pochino. Benedetto, due minuti al TG. Bisogna girare, devo girare sto pesce. Ecco qua. Allora, giriamo il pesce che non sta assolutamente cuocendo, sto maledetto. Dai, che sei un pesce persico dovrebbe cuocere in freddo. Dai, dai, che è ancora trasparente. Quando vedi che è trasparente, non va bene. Allora, ci vuole un po' di basilico, così. Come stanno gli involtini, gli involtini, sì, gli spiedini. Allora, come abbiamo fatto questo pesce persico? Però è bello, eh, sto pesce persico. Infatti, una bella immagine. Guarda che bello. Dai. Allora, verdurine, cipolle, pesce, una sfumata di vino bianco, qualche fogliolina di basilico. Guardate che qui mi si sta sciogliendo il formaggio. No, tu non devi scioglierti, devi solo cuocere. Ti ho finito a tempo. Ma no, c'è ancora un minuto. Faccio a tempo a fare ancora. Forza, Benedetta, un minuto a TG finito. Non c'è ancora tempo. Non c'è ancora un minuto. No, devo fare la marinata. Ma che è la marinata? Dov'è l'aceto? Ho dimenticato la marinata. Slitiamo! Dai, dai! Slitiamo! L'olio. Ho dimenticato la marinata. Cavolini. Allora, così. Cosa ridete? Si fa così, no? Allora, questo. Io lo lascio lì perché questo è troppo piatto, non va bene. Allora, questo lo faccio così. Ecco, il formaggio si è sciolto completamente. No, c'è ancora. Così, così. Dai, benocce! C'è sette, sedici, quattordici, tredici, quattordici, tredici, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Benedetta, inizia il TG. Ho gocciolato tutta la marinata. Però ce l'ho fatta. Dai, che è andata. Brava! Ah, questo è sul mio libro. Mi dimentico sempre di dirlo. Mettiamoci a cucinare se volete ritrovare il salvacente. Grazie a tutta la cucina!